La tecnologia consiste in un materiale, un tessuto, un tri-layer, che permette di lavorare sull'aria passiva che è presente intorno a noi negli ambienti indoor e outdoor. Il tri-layer è formato da un tessuto antibatterico-battericida che lavora in funzione della qualità del batterio che colpisce il tessuto. La parte centrale è un carbone attivo addittivato con molecole particolari che permette di lavorare sulla qualità e la velocità dell'aria, quindi riusciamo a catalizzare gli inquilanti presenti nell'aria che poi sono coloro che formano le polvere sottili, quindi stiamo parlando di NOx, benzene e Vox in generale. Infine abbiamo un terzo layer che è sempre un tessuto battericida però dove noi siamo riusciti a stampare in maniera ambientale, green, quindi con inchiostri totalmente senza solventi e riusciamo ad avere una definizione in alta definizione al pari del PVC.